Chi scoprì che la Terra gira intorno al Sole? Già nel 1260 a.C. l'astronomo greco Aristarco sostenne che la Terra ruota intorno al Sole, ma la maggior parte delle persone non poteva credere che la Terra si muovesse. Niccolò Copernico riprese e sostenne questa teoria che fu confermata da Galileo Galilei nel 1610. Solo nel 1728, circa 2000 anni dopo, la tesi dello studioso greco fu verificata sperimentalmente. Usando un enorme telescopio, l'astronomo britannico James Bradley vide che le stelle sembravano muoversi molto lentamente man mano che la Terra girava intorno al Sole.